Un megacampeggio sulla sponda destra del lago artificiale di Barrea a contestare l'opera in una lettera indirizzata al Ministero dell'Ambiente, al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise alla sovrintendenza è Franco Zunino, il segretario generale dell'AIB, il primo ricercatore sul campo dell'Orso Marsicano. Zunino ha fatto notare che con una spesa di 350 mila euro un'agenzia immobiliare intende realizzare un campeggio tra i comuni di Barrea e Civitella al Fedena tramite la realizzazione di strutture in cemento armato con il consenso degli enti che avrebbero dato l'ok per asfaltare due chilometri di strada serrata a bordo del lago. Se dovesse essere così saremmo di fronte a un ennesimo nuovo scempio che al danno ambientale e pesaggistico aggiungerebbe quello della vita dell'Orso Marsicano, essendo la zona una delle aree agricole che sarebbe il caso di rivitalizzare, sostiene Zunino, proprio per evitare che gli orsi scendano nei paesi a cercare gli alimenti che un tempo trovano nei campi e oggi non trovano più, da qui la lettera in cui l'associazione chiede tutti i chiarimenti del caso.